Allora, buongiorno a tutti e grazie ovviamente per l'invito al direttore dell'Agenzia. Io porto i saluti anche da parte del direttore Vecchione, che purtroppo è rimasto bloccato a Palazzo Chigi per una serie di problematiche da discutere col Presidente. Allora, ovviamente, diciamo, ho ascoltato in modo molto attento quelli che sono stati gli interventi precedenti e poiché io all'interno del DIS mi occupo proprio della sicurezza cyber a livello nazionale mi sembrava importante fare alcune considerazioni. Innanzitutto, come è stato detto, noi viviamo un momento in cui i servizi essenziali e le funzioni essenziali dello Stato si stanno trasformando e ormai completamente digitalizzando. Questo ovviamente ci provoca un grosso problema perché questa digitalizzazione ci espone, diciamo, a due tipi di problematiche. Una, una minaccia di tipo cyber che noi, diciamo, con quella quale abbiamo a che fare tutti i giorni e che di fatto rappresenta insieme a quella che è la cosiddetta minaccia di tipo economico ovvero quindi l'acquisizione dei nostri asset strategici due facce assolutamente della stessa medaglia in un mondo che, come vedete, si sta molto velocemente radicalizzando da un punto di vista tecnologico. Ovviamente quando parliamo di tecnologia abbiamo tantissimi assi su cui dobbiamo ragionare che vanno dall'AI, dal cloud, dall'IoT, i chip e soprattutto invito a riflettere su uno degli ultimi ban che sono stati portati dall'amministrazione americana per quanto concerne la vendita di chip su tecnologia statunitense verso una blacklist di aziende che ovviamente sarà molto, diciamo, impattante su una serie di aziende nel medio-lungo periodo. E ovviamente c'è un tesoro. Il nostro tesoro sono i dati. Ovviamente qui all'Agenzia i dati sono il pane quotidiano. L'abbiamo visto, diciamo, sia per la parte spaziale sia per la parte BIM e chiaramente è un tesoro che noi dobbiamo salvaguardare. È stato detto come la nuova Commissione europea ha molto focalizzato l'attenzione immediatamente sul concetto di sovranità digitale e noi sappiamo come la sovranità digitale è assolutamente difficile da esercitare. Lo vediamo dal punto di vista delle cose più semplici. Non riusciamo a fare una tassazione sul digitale. Quindi è chiaro che servono nuovi strumenti, è chiaro che serve come mezzo per arrivare a una sovranità, diciamo, digitale, serve ovviamente un'autonomia strategica sul digitale. Cioè serve di riuscire a ragionare su quelle che sono le tecnologie essenziali sulle quali uno Stato e poi successivamente ovviamente l'Europa devono poter, diciamo, prendere delle decisioni che non siano, diciamo, dipendenti da decisioni di altri attori statuali. Questo è un passaggio fondamentale che è stato, secondo me, recepito molto bene in particolare dalla nuova Commissione. Chiaramente, da questo punto di vista, in realtà, diciamo, in Italia ci siamo mossi ho parlato prima di minaccia che va su due livelli, no? Quindi una minaccia economica e una minaccia cyber. Sulla minaccia economica sapete che noi abbiamo una legge che è quella della Golden Power che è stata rivista recentemente e, diciamo, allineata su quello che è la direttiva IDE europea e quindi inserendo tutta una serie di altri settori soprattutto per quanto riguarda le tecnologie digitali in particolare. Ricordo che già l'Europa è stata soggetto di terre di conquista non soltanto l'Italia ma anche altri Stati di aziende che, diciamo, possono portare la nostra ricchezza oppure possono crearci grossi problemi in futuro. Noi stiamo vedendo adesso quello che sta accadendo all'interno del 5G ovviamente dobbiamo essere consapevoli che il 5G è l'antipasto non è, diciamo, un elemento, ma è un elemento all'interno di un insieme perché l'AI sicuramente sarà dirompente da questo punto di vista penso all'IoT, penso al Cloud che è stato citato prima. Ecco, quindi tutto questo va razionalizzato e va inserito all'interno di una strategia. La strategia, diciamo, italiana per quanto riguarda la parte cyber è legata a una legge approvata a novembre 2019 che è il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Questo perimetro ha 5 decreti attuativi. Il primo decreto attuativo è appena tornato dalle camere è una legge nella quale ovviamente il, diciamo, il comparto ha una leadership e sta portando avanti in ambito intergovernativo questo lavoro, devo dire, molto complesso il cui obiettivo è quello di alzare la resilienza delle nostre funzioni e servizi essenziali dello Stato ormai digitalizzate. e quindi l'idea è quella proprio di, diciamo, creare questo perimetro all'interno del perimetro entreranno gli asset ICT strategici con i quali noi facciamo funzionare le funzioni e i servizi essenziali che, se, diciamo, manipolati, ecco, possono avere un impatto sulla sicurezza nazionale. Vi faccio degli esempi. Ovviamente non stiamo parlando di classificato stiamo parlando di non classificato di un mondo non classificato non so, il sistema di gestione del debito pubblico piuttosto che tutta la parte che, appunto, anche a seguito del Covid i laboratori cosiddetti di alto contenimento dal punto di vista biologico piuttosto che, non so, i sistemi di logistica della difesa. Ecco che all'interno del primo DPCM attuativo abbiamo identificato una serie di settori tra cui c'è anche spazio aerospazio nel quale, praticamente, noi stiamo facendo un esercizio che sta coinvolgendo circa 150 tra tecnici e giuridici su tutte una serie di amministrazioni dello Stato con i quali stiamo facendo quest'opera di selezione di quei soggetti che poi dovranno identificare gli asset ICT con i quali gestiscono queste funzioni e questi servizi essenziali dello Stato in un ottico, ovviamente, di alzare le misure di sicurezza all'interno di questi asset ben consapevoli che il rischio cyber non può essere messo a zero e quindi noi da una parte dobbiamo fare un'opera di prevenzione e quindi di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che ci permette di organizzare la difesa cyber civile dall'altra dobbiamo avere un sistema pronto a rispondere in caso l'attacco ci sia quindi da questo punto di vista viene a supporto sulla seconda parte l'architettura nazionale cyber che ha centro praticamente nel comparto in particolare nel DIS attraverso il nucleo sicurezza cibernetica nazionale che in caso di attacco a specifiche diciamo attacco con riflessi di sicurezza nazionale si attiva e diciamo oltre a fornire informazioni dette agire e a rispondere a quello che può essere l'attacco in atto e naturalmente noi negli ultimi nell'ultimo paio d'anni il nucleo ha lavorato devo dire con frequenza abbastanza alta magari poi non ci sono riflessi continui di questo lavoro all'esterno perché molti di questi attacchi rimangono poi ovviamente confinati ma alcuni sono diciamo diventati di dominio pubblico c'è un punto però sul quale mi vorrei soffermare prima di arrivare insomma alle conclusioni ed è il fatto che il perimetro abbiamo detto da una parte ci permette di alzare il livello di sicurezza dei nostri asset ICT non classificati che gestiscono queste funzioni o servizi essenziali dall'altro però sarà un formidabile dal mio punto di vista volano di innovazione perché? perché le aziende che saranno dentro il perimetro che gestiscono questi asset ICT avranno bisogno ovviamente di need tecnologici quindi dovranno arrivare a quel livello di sicurezza e ovviamente questo può essere un volano per le nostre aziende nazionali e in secondo luogo le aziende europee è chiaro che all'interno di questo diciamo gioco noi dobbiamo ragionare in termini di autonomia strategica nazionale nel digitale come paese innestato all'interno dell'Unione Europea e quindi chiaramente ci dobbiamo iniziare a fare queste problematiche e da prima è stato parlato è stato detto più volte il discorso del cloud nazionale io credo che sia estremamente importante che l'Italia si doti di una capacità autonoma fermo restando che il perimetro ha già sviluppato tutta una serie di investimenti che sono stati ricordati prima da parte di Google da parte di Amazon a Milano da parte di Microsoft e questo è importante perché? perché vi ricordo che non c'è una legge in questo momento che blocca i dati della pubblica amministrazione in Italia il perimetro farà questo tutti i dati che saranno sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale dovranno rimanere sicurezza nazionale cibernetica a livello di perimetro dovranno rimanere in Italia abbiamo già avuto un antipasto di questa diciamo di questo tipo di visione attraverso l'articolo che ha dato il ground giuridico all'app Immuni dove è scritto chiaramente dove si dovranno fare le elaborazioni e dove si dovranno gestire i dati ecco questo sarà un qualcosa che dovrà necessariamente essere esteso a tutte le diciamo i servizi che rientreranno all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica questo ovviamente perché un impatto su quell'asset specifico ICT ci provocherà direttamente ripercussioni sulla sicurezza nazionale quindi da questo punto di vista diciamo salutiamo assolutamente con favore questi investimenti che sono stati fatti all'interno del nostro paese dall'altra ovviamente noi auspichiamo anche una capacità nazionale importante all'interno di questo settore così come la auspichiamo nell'EI così come la auspichiamo e nell'IoT ovviamente ci sono settori dove noi anche da un punto di vista di ricerca e sviluppo tradizionalmente siamo più avanti grazie anche ai nostri campioni nazionali ci sono poi altri settori per esempio quello dei microprocessori dove siamo leggermente indietro non solo come Italia direi come Europa però la cosa importante è essere consapevoli che si gioca un ruolo all'interno di un'autonomia strategica del digitale capire i punti di forza rafforzarli capire quali sono gli altri paesi europei che possono portare i loro contributi in altri settori integrarsi in questo contesto e ovviamente per far questo riprendo diciamo una delle conclusioni del generale Carta che saluto ovviamente col quale abbiamo lavorato fino a poco tempo fa insieme che è quello di fare sistema non c'è alternativa a tutto ciò cioè dobbiamo da una parte il discorso governativo dall'altra la parte industriale devono lavorare insieme per poterci permettere di portare l'Italia nel futuro e così come noi abbiamo bisogno di anche organizzazioni in grado di gestire non so strade autostrade eccetera eccetera abbiamo bisogno di organizzazioni per gestire il dominio digitale da questo punto di vista stiamo supportando in tutto e per tutto la costituzione del CVCN all'interno dello sviluppo economico stiamo supportando quelli che saranno poi lo XIRT che in questo momento si è attivato all'interno del DIS lo XIRT nazionale stiamo attivando tutto ciò perché fa parte di un percorso che ci permetterà di aumentare la resilienza del nostro paese rispetto a questo tipo di attacchi grazie grazie grazie